Da oggi fino a martedì 14 febbraio Napoli ospita in Piazza Carità stand ed eventi dedicati al cioccolato. Quattro giornate di degustazioni, laboratori, attività di intrattenimento per bambini per un'edizione dedicata agli innamorati in occasione della festa di San Valentino. Il villaggio, promosso dalla Cioco Amore con il patrocinio del Comune, si è aperto stamane con gli stand dei maestri cioccolatieri e di loro prodotti artigianali. Si potrà partecipare a laboratori didattici ed assistere alla lavorazione del cioccolato ad opera dello scultore friulano Stefano Comelli che è ospite d'onore dell'evento. La scultura realizzata sarà destinata ad un'associazione del territorio per una raccolta fondi di beneficenza. È uno dei modi con cui festeggeremo in questi giorni San Valentino a Napoli con tante iniziative. Questa piazza riempita dal cioccolato proveniente da tutta Italia è una bella piazza. Sapete come noi favoriamo iniziative di qualità negli spazi della nostra Napoli.